What's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction ebbene ragazzi quest'oggi andremo a guardare insieme il nuovo incredibile e penso di poterlo definire completamente inaspettato announcement trailer di Little Nightmares 3 è stato annunciato appunto ragazzi appena qualche giorno fa una conferenza adesso non mi ricordo di preciso il nome della conferenza fatto sta che io non sapevo neanche ragazzi ci fosse questa conferenza vi devo dire sinceramente fatto sta che mi è stato segnalato questo trailer perché non avevo neanche visto in giro su internet fra le varie notizie che appunto ragazzi fosse stato mostrato questo trailer e penso che un po' tutti noi videogiocatori siamo rimasti completamente di stucco appunto ragazzi quando è stato mostrato questo trailer perché penso che nessuno di noi se lo aspettasse in effetti adesso io ragazzi non ricordo se in Little Nightmares 2 alla fine ci fosse qualche probabile indizio appunto che avrebbero fatto anche un terzo capitolo non ricordo di preciso questo magari ragazzi me lo dirà qualcuno di voi come non so di preciso se appunto fosse stato rilasciato qualche piccolo indizio da parte degli sviluppatori riguardo questo terzo capitolo per questo io sono caduta completamente dalle nuvole cioè quando mi è stato segnalato ho detto what the fuck come Little Nightmares 3 davvero cioè non so se anche voi avete reagito allo stesso modo fatto sta che appunto mi sono risparmiata di guardarmi il trailer da sola per poter registrare questa reaction e guardarlo insieme a voi il trailer dura veramente pochissimo ragazzi soltanto un minuto e trenta anche se non so minimamente davvero cosa aspettarmi fatto sta che sì sono super entusiasta perché ovviamente lo sapete ho portato le due serie qui sul canale sapete appunto quanto mi siano piaciuti i primi due capitoli quindi ovviamente le aspettative sono alte sono alte quindi direi ragazzi di non perdere più tempo e di andare a guardare questo trailer ok 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 Autore dei sorrisi 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 I personaggi quindi questo anche lo rende sicuramente più intrigante perché magari risolvere enigmi in solo può essere non dico noioso ma magari con due personaggi può rendere la cosa un pochettino più interessante ecco può dare una maggiore sfida ecco diciamo così. Io ho avuto i brividi sinceramente lo comprerò al lancio questo è poco ma sicuro questo ragazzi è uno di quei giochi che mi interessa sicuramente giocare al lancio Little Nightmares il primo non l'avevo giocato al lancio l'avevo giocato un po' dopo ma dopo averlo giocato averlo adorato ovviamente ragazzi avevo comprato al lancio Little Nightmares 2 anche perché c'ha sempre ragazzi appunto questa atmosfera cupa che comunque tipo angosciante ragazzi unica nel suo genere e poi te mettono sempre comunque questi nemici molto più grandi di te che ovviamente ti ricordano di quanto siano piccoli i tuoi personaggi di quanto possano essere vulnerabili no? E' per questo che dicevo che i Little Nightmares hanno un'atmosfera unica nel loro genere che sicuramente ti spinge a volerli giocare poco ma sicuro anche perché tra l'altro ragazzi i finali dei primi due capitoli mi avevano lasciato letteralmente a bocca aperta soprattutto quello del secondo quindi sono davvero 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 molto in hype molto curiosa di giocare questo terzo capitolo e a maggior ragione perché comunque ragazzi è quel tipo di gioco che la storia non te la spiega nel senso poi va tutto molto a interpretazione quindi questo è l'ennesimo aspetto che li rende intriganti e quindi che ti proprio ti fa desiderare di giocarli questo è poco ma sicuro quindi super curiosa tanto tantissimo veramente tantissimo hype non vedo l'ora che sia il 2024 ovviamente per poterlo prendere a lancio e per poterlo portare ovviamente qua sul canale quindi ragazzi ovviamente aspetto qua sotto in commento i vostri pareri fatemi sapere voi che cosa ne avete pensato di questo trailer se siete rimasti sorpresi quanto me di questo trailer se lo comprerete a lancio che cosa avete pensato nei primi due capitoli insomma ditemi un pochettino i vostri pareri questa reaction termina qui grazie a tutti un bacione e obdoscia a tutti i ragazzi da giocherina ciao